carissimi stracandidi buongiorno ben trovati buon mercoledì a tutti un mercoledì da spalletti out spalletti out prima di cominciare però mi raccomando iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale abbiamo da poco superato i 900 iscritti andiamo forza dai forza verso questi benedetti mille iscritti non vi dimenticate che il calcio fa bene alle ossa anche quando non ci sono gioie ma dolori e mi raccomando state vicino al vostro amico stracandidi allora spalletti out appena arriviamo ad aprile nelle nostre stagioni e i risultati magari non sono in linea con le nostre aspettative perché i risultati sono in linea con le aspettative di inizio stagione della società ma anche in parte della piazza cominciano gli hashtag polemici l'anno scorso era il gattuso out che stava sì facendo comunque un qualcosa di importante perché il girone di ritorno di quella squadra è stato sontuoso salvo nelle ultime cinque giornate fare tre vittorie due pareggi e quei due pareggi con cagliari e verona in casa sono costati l'obiettivo stagionale della champions league quest'anno siamo sempre a cinque dalla fine siamo una posizione in più rispetto all'anno scorso perché l'anno scorso a questo punto del campionato eravamo quarti con la juve attaccata che spingeva per infilarci poi cosa fatta l'ultima giornata e abbiamo un punto in più rispetto alla scorsa stagione quindi secondo molti è una stagione fallimentare io vi capisco un po' perché vi capisco perché abbiamo questa ambizione questo sogno di riuscire a vincere prima o poi un maledetto scudetto però non si può buttare tutta mare io io il nervosismo anche nel post partita di tanti amici youtuber o conoscenti che hanno ragione perché lucianone mio hai fatto un sacco di cagate lunedì ma una marea una marea perché io capisco che uno dica voglio andare a difendere il risultato un risultato importante va bene ma non togli l'unico uomo che ti può dare la profondità per cui abbiamo anche nel corso della partita provato ad allungarci no lanciando il pallone sullo suo sul suo scatto io ti capisco quando mi dici sì ma mertens mi garantiva un po' più di palleggio ma noi non ne avevamo di palleggio perché il centrocampo non aveva più la dota di palleggio se c'è uno zenischi che è un ectoplasma assoluto che è forse la cosa più sbagliata possibile che è che è stata fatta metterlo in campo perché zenischi non è in condizione non so se fisica o psicologica ma non è in condizione se voi andate a rivedere anche il gol che abbiamo preso la palla che attraversa tutta l'era di rigore per così lui la guarda lui la guarda è a pochi metri dall'azione uno con cattiveria con fame con con determinazione prova ad andare a contrastare il sharawi lui no ha guardato il pallone che passava va bene demme non ha le stesse caratteristiche di lobot certo siamo d'accordo ma è quello più vicino a lui e comunque comunque anche mettere elmas a destra che l'abbiamo visto in tutte le salse che da quella parte è un pesce fuor d'acqua non ha alcun senso vuoi passare alla difesa tre benissimo metti eh con ramani e culibali juan jesus tieni mario lui tieni zanoli in mezzo demme eh eh Fabian e se proprio 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 a questo punto elmas e poi davanti ci lasci osimene mertens è una squadra che ha più logica più senso cioè lasciare mertens e elmas è come dire alla roma te mi consegno a te vedi tu se riesci a trovare il gol del pareggio io però devo fare questa questa schifezza qui i cambi sono stati sbagliati poi la mezza polemica che poi vedremo se diventerà un polemicone su sulla sulla frase su dell'aurentis che è detto la dell'aurentis che mi dice che faccio i cambi eh tardi male eccetera eccetera a lucià i cambi che hai fatto lunedì sono stati del fesserie ma santissimo santissimo affidati a quelli che stanno bene e lascia da parte ste benedette tue convinzioni del cazzo Fabian ha fatto una partita di merda di merda Zemischi sono settimane per non dire mesi che è questo qui è questo qui c'è questo sguardo ghiacciato no con questi occhi azzurri che sembra un bambino spaurito ma non possiamo andare avanti con questa gente per vincere i campionati servono gli occhi della tigre gli occhi cattivi ma ieri sera avete visto la partita di del derby ma avete visto che occhi cattivi che avevano i giocatori dell'inter tutti dal primo all'ultimo a mordere sulle caviglie dei giocatori avversari senza lasciarli respirare è bastata una scintilla a Torino per fargli tornare una cattiveria che poi ti consente di ottenere dei risultati e noi liberi mentalmente perché noi siamo liberi mentalmente perché non abbiamo niente da perdere niente da guadagnare se andiamo a vederla bene giochiamo così persi smarriti gli occhi della paura per quale motivo non si capisce perché avete paura di vincere uno scudetto ho paura di provare a vincere uno scudetto è follia è follia quindi per me lo spalletti out no perché una partita può aver sbagliato nei cambi l'atteggiamento in qualche altra partita ci sta probabilmente gli errori stanno nelle nel voler seguire troppo le proprie convinzioni ma a un certo punto Lucia chi ti segue ti segue chi non ti segue sta in panchina è questo il ragionamento che va fatto ci sono cinque partite a disposizione per i miracoli ci stiamo attrezzando per me è impossibile impossibile perché vuol dire che l'inter deve fare nella prossima settimana tra Roma Bologna e Udinese tre punti tre punti perché andrebbe a più cinque su di noi facendo questa situazione vincendo con Empoli e Sassuolo noi andremo a più uno su di loro non credo che il Milan possa fare sei punti tra Lazio e Fiorentina quindi solo così solo così torneremmo ancora in corsa perché poi si li scavalcheresti ma poi avresti le ultime tre Torino Genoa e Spezia che dovresti vincere tutte e tre ma dovrebbe dovrebbero veramente suicidarsi ma per come stanno questi qua oggi questi si mangiano le partite si mangiano qualsiasi avversario quindi di speranze secondo me siamo ridotti proprio al lumicino però restiamo uniti e stiamo compatti sono ultime le ultime cinque partite di un ciclo di un ciclo quello cominciato con Ancelotti perché molti dei giocatori che sono qui sono arrivati in quel periodo lì si chiuderà oggi molti di questi andranno via molti rimarranno vedremo chi e si ripartirà da un mercato che dovrà rivoluzionare tecnicamente ed economicamente questa squadra lo farà Spalletti forse sì ma bisognerà capire che tipo di risultato ci darà questa stagione che sicuramente non può prescindere dalla Champions League siamo a più nove sulla quinta che oggi è la Roma potremmo essere a otto sulla quinta nel caso in cui la Fiorentina vincesse il suo recupero quindi comunque il margine è buono a cinque dalla fine bastano otto punti in cinque partite per riuscire a staccare il biglietto per la Champions League poi se riuscissimo anche a rimanere davanti a quelli lì male non fa perché ci finiamo davanti praticamente mai mai praticamente mai nelle ultime dieci stagioni quindi anche quando non sono andati bene noi ci siamo finiti dietro quindi sarebbe comunque un ottimo risultato quelli lì che stasera sono impegnati proprio contro la Fiorentina nella guerra di intorno per quanto riguarda le semifinali di Coppa Italia. Amici straccandidi basta con questi cazzo di hashtag di merda per favore stiamo vicini alla squadra in queste cinque partite poi tireremo le somme finali per fare somme o sottrazioni in base a quelle che sono che erano le aspettative iniziali. Io vi ringrazio vi saluto vi auguro una buona giornata continuate ad iscrivervi al canale e continuate a ricordarvi che il calcio fa sempre bene alle ossa. Dal vostro amico straccandido alla prossima.